Nel 2023 le entrate tributarie della regione Sicilia sono aumentate di ben un miliardo e 300 milioni, somma che destineremo a ridurre il disavanzo ereditato dal passato. Ma è evidente che questo trend è positivo, dà il segno di una ripresa economica. Se nel 2024 ciò dovesse ripetersi, destineremo queste ulteriori somme per l'abbattimento di vista d'attesa, interventi sociali, ma anche manovre espansive che guarderanno a creazione di posti di lavoro guardando al monto dell'impresa.